Soprano in visita a Roma, lo scia di Persia giunge a Venezia, imperiale visitatore delle nostre città. L'onorevole Andreotti lo accoglie. Dopo la Venezia monumentale l'ospite ha voluto conoscere anche quella balneare del Lido, più semplice e alla mano di molti altri bagnanti meno illustri. Non violeremo un segreto della corona supponendo che ora parli di cinema, come tutti in questi giorni di mostra. Monaco, De Pirro e Iguarini, la Magnani protagonista di Amore, il film di Rossellini. Ha contribuito al soggetto Cocteau ed ecco Orson Welles, quantunque autore dello straniero egli non si sente certo straniero tra noi, gli è accanto Lea Padovani. Pabst col pensoso film antirazzista Il processo ha ottenuto uno dei maggiori successi della mostra. Grazie. 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 Grazie.